Non ci sarà nessun attenuante perché episodi come questo, ma ancora prima quello del rumeno che ha ucciso la signora Reggiani, sono stati e saranno perseguiti con estrema durezza, perché il messaggio che deve passare è di una legge che colpisce. E questi sono casi eclatanti che non possono essere assolutamente ignorati, così come è successo per Ina, la ragazza bresciana uccisa dai parenti pakistani che sono stati condannati tutti e tre, il padre e gli zii. Ma io credo che poi vada detto al telespettatore che la signora che ha coltellato il pensionato non era marocchina, ma era una rom di origine serba, quindi altra cosa, altri problemi, altre soluzioni che vanno individuate. Ma il problema era che quella rom doveva essere custodia cautelare la sera a casa sua, non in giro. Assolutamente, ma le dico questo perché ci sono dei problemi che derivano poi da questa comunità, che sono diversi per cultura, per tradizioni, per usi, rispetto alla comunità musulmana. La verità è che questo è un mondo sempre più globalizzato, le città sono multietniche e multiculturali, è una sfida che dobbiamo per forza di cose affrontare, non possiamo ignorarla mettendo la testa nella sabbia oppure agire in maniera tale da dire, bene, non ci interessa, noi questo non lo vogliamo neanche affrontare come problema, perché le soluzioni dobbiamo trovarle, se no ci travolgeranno inevitabilmente, quindi soluzioni che vadano nell'interesse poi dei cittadini.